In collina eravamo liberi, ma una libertà diversa da fuori, da quell'eccesso di libertà che diventa prigione. Senza la divisione in poveri e ricchi, perché il denaro non esisteva. La collina era un'esplosione di energia. Il tribunale ha riconosciuto a Riccardo il diritto di trattenerci. I nostri genitori gli chiedono imploranti che ci tenga lontani dalle piazze dello spaccio, con qualunque mezzo. Esiste un gruppo addetto a riportarci indietro se assecondiamo il nostro desiderio di andare incontro alla morte. I ragazzi di questo gruppo sono i nostri angeli. Ovunque tu sia nascosto, gli angeli prima o poi ti riprendono. Sempre.